Inizio, 2, 1, inizio e inizio! No, ci facciamo il video direttamente da qui così lo scopriamo insieme. È un gioco che fa ampio uso della fisica, siamo un rover su Marte, dobbiamo compiere delle missioni e per farlo dobbiamo modificare il nostro rover. Lo iniziamo dall'inizio, la grafica è un po' quella simile a... io cito sempre 13, che è un gioco che ho giocato quando uscì vent'anni fa. È un gioco fumettoso, molto molto ben realizzato perché vedete anche l'onda di polvere. Quella dovrebbe essere la torretta che determina il raggio di azione del controllo del nostro rover. Tenendo premuto il tasto R facciamo il reset del nostro rover e ora andiamo ad accettare il primo contratto, quello di portarlo in affiatoio da qualche parte. Innaffiatoio o annaffiatoio? Vabbè. Lo proviamo a fare andando, usando la mappa con il tasto Tab, vedete che abbiamo un nuovo contratto, Water Intent. L'accetto e viene già tracciato in automatico, quindi dobbiamo prenderlo da qui e portarlo di là. Ma ci proviamo. Ovviamente ci accorgeremo immediatamente che non siamo in grado al momento di raccogliere nulla, ma a questo risolveremo a brevissimo. La cosa molto bella è che vi dicevo le leggi della fisica perché se io vado addosso, guardate cosa fa. Cioè lui proprio si muove. Comunque premendo V andiamo a fare un edit del veicolo. Abbiamo un blueprint specificatamente progettato per questo compito. Noi guadagneremo soldi facendo missioni e facendo missioni con i soldi guadagnati sbloccheremo dei pezzi. E li useremo poi per comprare appunto i nuovi moduli. Un po' alla Stormworks se vogliamo. Abbiamo tanti telecomandi, configure e controlli. Qua abbiamo l'inventario con quello che possediamo. E qua abbiamo il blueprint. Watering Can Lifter. Ok, questo è già un progetto già preimpostato. Quindi possiamo andare a chiudere. E abbiamo il nostro nuovo premi. Tiene premuto C per vedere. Ok, forward and reverse. Vedete che abbiamo semplicemente questi comandi qui. Ora proviamo a raccoglierlo. Ok, dovremmo esserci. Così non scappa più. Ora portiamo questo oggetto. Facendo molta attenzione. Puoi resettare dalla mappa. Guardate c'è tutta la stazione, i dome. Con le scarpe lasciate fuori dalla porta. Simpatico. Non so come potremmo scaricarla adesso. Dato che probabilmente... Vediamo. Magari appoggiandola in qualche modo lo... Dobbiamo fare attenzione a non impigliarci. Perché questo qui non tocca terra. Ha progettato abbastanza bene, però... Queste sono le serre. Si può salire da qui, sì. Perché mi sembra di aver visto il gradino. Perfetto. Ok, no, ce l'ho già scaricato così. Abbiamo guadagnato 30 fondi. Nuovo contratto. Create. Quindi andiamo. Create. E' un po' un death stranding. Allora, ok. Abbiamo accettato. Track and track. Premiamo V. Ok. Qua abbiamo le nostre parti. Sotto ogni parte puoi vedere quanti ne possiedi esclusi quelli del veicolo attuale. Completando i contratti guadagnerai i tuoi fondi. Quello che vi ho detto io. Puoi vedere il tuo bilancio qua in fondo. Perfetto. Premi F per acquistare nuove parti usando i tuoi fondi guadagnati con fatica. Copia. Ah, ok. Qua possiamo fare... Copiare, diciamo... Le cose. E le parti di progetto. Allora. Ma onestamente, io che cacchio devo fare? New contract. Devo trasportare quello. Delivery credit. Ma la credit è là. Allora, vediamo un attimo. Come possiamo fare per trasportare una credit? Io non mi sono preparato prima, quindi io non ho progetti. Non ho idea di come poterli portare. Posso comprare delle parti. Mi servo motori? Boh, io premo... Ah no, costa 160, quindi idea di no. Fondi. Non ho niente. Connector. Non mi aiuta, non mi aiuta. Non ne ho idea. Andiamo a vedere come deve essere questa scatola da portare. Perché magari riusciamo a portarla già anche così, senza bisogno di dover... Però è dubito. Perché la dobbiamo portare là, è vero, ma... Eh, ciao. Ok, abbiamo sbloccato il fast travel, quindi abbiamo il fast travel. Pick up, credit. Eh, ho capito, ma io come la prendo la credit? Facendola cadere? Vedete che si fa molto interessante la cosa. Se io vado qui non mi fa prendere qualcosa, no? Pick up, credit, no? No. Però, secondo me, potrei prolungare il braccio. Vediamo se possiamo fare il fast travel. F fast travel, sempre che non ci costi una fucilata. Allora, vediamo un attimo. Lì dietro... Perché mi dice 0.1? Abbiamo qualcosa qua? No, dobbiamo depositarla lì, la cassa, ok. O lì. No? Boh. Vabbè. Vediamo un po' cosa c'è qui. Credo niente, no? È solo un punto così. Allora. Allora. Proviamoci di nuovo. Ah, ma potremmo farlo anche di là, non è necessariamente qua. Vabbè. Allora. Se noi staccassimo... No, 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 no. Nulla. Ok. Volessi aggiungere questo. Qui. Ok. E ne aggiungessi un'altra ancora. Ok. E li ho usati tutti e due. E ci sta. Poi. Usiamo un servomotore. Che cacchierona, non mi ricordo più com'era messo. No, lo mettiamo così. Ok. E mettiamo un servomotore adesso. Di qua. Servomotore ne abbiamo uno solo. Non ne possiamo comprare un altro, perché costa una fucilata, però possiamo usare questo. No. Ma ne mettiamo un altro di questi. Così riusciamo a mettere il nostro... E non mi ricordo più come l'ha fatto prima. Sì. È esattamente come dico io. E poi questo. Così. Non così, magari. Ma lo mettiamo di qua. Così. Perfetto. Secondo me può andare. Può andare, ma... Tra l'altro non c'è un servomotore sotto. Ma è proprio fisso così. Quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto trasportando la cassa, perché rischiamo di ribaltarci. Quindi ci potrebbe essere anche la possibilità di dover creare un contrapeso dall'altra parte. Allora, io come prima cosa direi. La proviamo a far cadere. E poi... Perché non... Eh sì, bisogna fare molta attenzione. Allora, abbassiamo. L'altezza mi sembra giusta. Ok. E' tremendamente figo sto gioco. Davvero molto figo. Però... Ok. No. 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 È successo quello che non doveva succedere. È successo quello che non doveva succedere, ma... Forse ne usciamo. Sì. Oscillando un po' ne usciamo. Io ho ancora dei dubbi che questo funzioni. Perché ho usato la struttura del vecchio... Eh, non funzionerà, no. Però lo possiamo ricostruire già da qui. Quindi, tecnicamente, togli questo, togli questo, togli questo, togli questo. Adesso usiamo la struttura... Uh, la struttura, diciamo, iniziale. Quindi questa, col servomotore. No. Ci mettiamo questo. Il servomotore. Questo. E il nostro gancetto. Ok. E vediamo se così funziona. Sarebbe stato meglio prenderla dalla maniglia, però... Al momento direi che... Ecco, così non scende più. Ecco, io vi dico... Questi sono i giochi... Che non innoveranno il panorama appunto di videogiochi. Ovviamente. Ma sono quei giochi che denotano proprio amore per la fisica, in questo caso. Che danno soddisfazione, che rilassano. E... E io direi che... Questo è un inizio assolutamente interessante per questo titolo. Mi sono promesso di non fare video eccessivamente lunghi. Vedete che abbiamo sbloccato nuove parti. Quindi il gioco si fa interessante perché abbiamo la cassa di arance. Quindi ora non si può più capovolgere. Diventa più difficile. Il gioco, tra l'altro, lo potete giocare anche in cooperativa. Non so come. Perché non ho modo di provarlo. Però ci sono gli amici che... Che avete. Posso salvare. Quindi andrò a salvare. E lo potete giocare in cooperativa. Non so se con due rover o che altro. Però può essere interessante anche in cooperativa. E in early access mi sembra ottimizzato assolutamente bene. L'ho visto, mi ha ispirato subito e ho avuto la possibilità dallo sviluppatore di provarlo. E lo ringrazio. Attendo ora il vostro parere. 20 euro li vale. Beh, calcolando che... Il gioco è un bel passatempo. E non lo dico in tono dispergiativo passatempo. Ma lo dico... Mi sono rilassato, ingegniato. Insomma, sta qui a pensare. Non è stressante. Non vi mette tensione. Insomma, lo provate. Fate gli esperimenti. E così vi passano le ore. Insomma, quindi... Il gioco vale 20 euro al momento? Sì, anche calcolando. Che magari potrebbe arrivare a 30 quando il gioco uscirà. Però, ecco. Da valutare la longevità. Non so quante missioni ci saranno. Però, insomma... Calcolando che comunque gli aggiornamenti li riceve. E quindi potrebbe essere molto, molto interessante. Ma ora attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi. E ciao, ciao.